metta la palla tei di capabilmente rete rete ha segnato Nicola Perrucci anche per lui la sua doppietta è partito nel secondo tempo c'erano i due ragazzini se lo mettevi era spettacolare risultati in questo momento 6 a 1 6 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 Grazie a tutti.